aiuto proprio ora c'è stato il terremoto stavo caricando il video stavo rispondendo a un messaggio di una youtuber di Valentina mi è uscito questo qua faceva così ma pazzesco i cani sono di là quindi non hanno sentito niente con la televisione forte ma pazzesco ora carico il video di oggi sono cagato un po' anche